eh non si vede purtroppo sta salendo eccola eccola è lì che sta salendo eh purtroppo non si vede eccola eccola eh c'è il lampione però niente facciamo vedere dopo eh sta salendo eh si vede il lampione ancora quello sotto è il lampione quello sopra è la luna per chi non l'avesse capito vedete però sta salendo sta salendo è su sale è bella piena eh purtroppo si vogliono degli obiettivi apposta per farla vedere bene questo è il meglio che riesco a fare adesso provo col telefono ma tanto viene uguale più o meno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti